Ciao, sono Filo e oggi vi presento Ilaria, una borsa in vera pelle di vitello dollaro, capiente, comoda e leggera. Ilaria presenta una chiusura doppia con zip per una maggiore sicurezza. Sul retro la borsa ha un taschino con chiusura zip dove poter riporre le chiavi o l'abbonamento dei mezzi pubblici. All'interno è divisa in due grandi scomparti, due aperti e uno centrale con chiusura zip. Inoltre, grazie al suo manico regolabile, può essere indossata sia a spalla che crossbody. Ilaria è disponibile in due misure, vai sul nostro profilo o clicca sul link in bio per scoprire altri dettagli e tutte le colorazioni. Inoltre, grazie a tutti.